Ciao ragazzi e ragazze Mi viene da ridere, mi viene, mi viene da ridere Si sono appena conclusi i match, scusate, di Champions e qui Sto rivedendo negli highlights il gran gol di Foden Che se non sbaglio è un 2000 Il calciatore del Borussia Dortmund che ha segnato mi sembra che sia Bellingham Credo che si chiami, anche lui è un 2003 Io penso che questo gente debba farci riflettere molto Perché sì, i fatturati contano Perché alla fine le squadre che arrivano in fondo sono quelle che hanno il fatturato più alto Su questo è innegabile gente, su questo veramente si può fare ben poco Però oltre i fatturati c'è chi all'estero ha il coraggio di lanciare i giovani Perché se voi ci fate caso ragazzi In Europa si gioca in velocità Il ritmo è tutto Più che i fatturati ragazzi Perché questi hanno il coraggio di lanciarli i giovani Cosa che noi non facciamo Noi rinnoviamo il contratto a Dragosin Ma io non l'ho mai visto giocare Forse salvo qualche spezzone Allegri parlava già bene di fagioli nel 2018 Ma voi l'avete visto Qualche spezzone con la spalla e poco altro Questa è la differenza Oltre il fatturato Fra noi e gli altri campionati Perché questo è innegabile E se vogliamo avere nei prossimi anni L'1% di possibilità L'1, il 5, il 10% di possibilità Non dico di arrivare in fondo Ma di superare a meno gli ottavi Non parlo solo Per quanto riguarda la mia squadra del cuore La Juventus Parlo anche per le altre squadre Forse dobbiamo avere Visto che causa Covid Soldi non ce n'è Forse avere il coraggio di cominciare A lanciare qualche giovane Perché questa è la dimostrazione Bisogna correre in campo Correre Perché ho fatto la live Di campionato domenica scorsa Quando cazzo era di Juve Genua Il più giovane forse avrà avuto 27-28 anni Tutti giocatori ultra trentenni E la dimostrazione è Guardarti una partita In campionato italiano Che ti viene il latte Alle ginocchia E guardarti queste splendide partite In Champions Che veramente sembra di vivere Su Marte Su Marte Quindi siccome shake in Italia Difficilmente verranno Perché con le tassazioni che ha Il nostro paese Quindi difficilmente uno shake Si prenderà una squadra italiana L'unica speranza che abbiamo È di lanciare Sti cazzo di giovani Perché se no ragazzi Moriremo tutti Moriremo tutti Ma non vedremo mai nessuna squadra Italiana Triunfare in Europa Perché questi sono fatti ragazzi Fatti Ritmo Velocità Attaccare 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 Questo conto in Europa Questo conto in Europa Perché il calcio è cambiato ragazzi Il calcio è cambiato Ora si gioca in attacco In attacco Vince Chi segna un gol più dell'avversario Basta Basta Comunque dai Ci vediamo domani sera In live Per Juve Eh sì Buonanotte Roma Ajax E ti fiamo gente L'ultima squadra italiana Rimasta in Europa Dai Like al video Iscrivetevi al canale Attivate La campanella Delle notifiche su tutte Fino All'iscrizione Forza Juve